Buonasera a tutti, eccoci per l'ultimo impegno per quanto riguarda la stagione regolare del nostro campionato sperando di poter fare questi playoff, poi se si fanno bene, se non si fanno ragazzi non allarmiamoci perché all'inizio campionato non hanno questi piani, quindi pure che non li raggiungiamo pazienza proveremo l'anno prossimo con una maggiore consapevolezza. Ci prepariamo a quest'ultimo incontro contro il Brescia, gara casalinga che si giocherà allo stadio Renzo Barbera qui a Palermo vedremo il nostro Palermo con il consueto 3-5-2 e vedremo Pigliacelli tra i pali, Matei, Ndelcearo e Bettella in difesa Buttaro, Segre, Gomez, Verre e Sala a centrocampo Tutino o Soleri, questo è un dubbio che verrà sciolto molto probabilmente a pochi minuti dall'inizio della gara quindi è tutto un divenire l'altra certezza è Brunori e vedremo da chi sarà affiancato, se da Soleri oppure da Tutino il Brescia invece risponde con il consueto 4-3-1-2 risponde con Andracci in porta Karacic, Cistana, Mangraviti e Ward in difesa Bisoli, Laboico e Bjorkengren nella legna mediana Rodriguez alle spalle di uno tra Adrian e Indoi Sperando che sia una bella partita mi auguro che ci sia una vittoria anche se come tutte le partite è sempre un'incognita mi auguro che quest'anno sarà sempre un successo playoff o meno o promozione o meno certo hanno adesso l'obbligo morale di provarci ma se non avviene, poco male perché ricordiamoci che siamo sempre una promossa e certo all'inizio campionato nemmeno la società sperava in questo risultato anzi i piani della società all'inizio campionato erano ben altri come sappiamo ovvero di stabilirci come in pianta stabile per poi in un altro anno provare a risalire nuovamente in Serie A ma adesso siamo lì ci stiamo provando quello che succede si vedrà e come si dice a Palermo se conosce battiamo se sia playoff o sia che il campionato nostro finisce qui poco male speriamo nei playoff ma poco male se il Palermo non riesce a centrarli resta comunque sempre un ottimo campionato non abbattiamoci anzi speriamo che tutto vada per il meglio da parte mia se non ci saranno i playoff sarà l'ultimo video poi magari possibilmente in questi giorni forse ne farò un ultimo per commentare questa partita quindi per quanto riguarda il campionato sotto una forma questo sarà un ultimo video però non disperiamo perché il tutto dipende dalla classifica da ciò che che accadrà in campo quindi vi auguro una buona partita e ci vediamo al prossimo video che speriamo che siano per commentare questi playoff oppure commentare anche le varie voci di mercato che si possano succedere perché perché ho intenzione anche di seguire quest'anno anche il calciomercato per quanto riguarda il Palermo per vedere come come verrà strutturata la squadra come come si lotterà per il futuro una buona sera da tutti buona partita e sempre Forza Palermo Grazie a tutti Grazie a tutti